Vita, Morte e Miracoli è il filo conduttore dei 24 spettacoli in cartellone per la stagione 2023-2024 del Metastasio. 15 sono prodotti dal Teatro Operatese e 3 hanno respiro internazionale. Spesso la vita ci sembra appunto solo vita e morte, ma dobbiamo ricordarci che ci sono anche i miracoli. Ognuno di noi compie e assiste a tanti piccoli miracoli nella sua vita, come per esempio in quest'ultimo periodo il miracolo di riuscire ad arrivare a fine mese. Spettacoli che fossero aperti a tutti i cittadini, a tutte le persone, che non avessero soglie d'ingresso e che appunto fossero insieme popolari e d'arte. Fuori dalla scena il miracolo è quello di riuscire, nonostante tagli al budget, a presentare una nuova stagione, che però per la prima volta non comprende il festival contemporanea, momentaneamente sospeso. Far quadrare i conti di stagioni come queste non è stato facile, però devo dire che il 2022 ci ha regalato sei premi, un posizionamento nei teatri di rilevante interesse culturale italiano che non avevamo mai raggiunto, siamo il quarto teatro italiano e quindi diciamo grande fatica, grandi sacrifici, ma anche dei buoni risultati. Un cartellone giocato tra Metastasio, Fabricone e Magnolfi, con artisti di riconosciuto valore e giovani talenti emergenti. È una programmazione che punta sulla qualità degli spettacoli, che emozionano chi frequenta assiduamente il teatro e chi per la prima volta si avvicina. Oggi il teatro Metastasio è uno dei dieci teatri più importanti d'Italia, non soltanto per il suo straordinario passato, ma per il suo fortissimo ed importante presente.